che è una continuità del vecchio, cioè è una ricondizione praticamente delle cose da fare perché finora tutti e anche delle forze che sono in maggioranza continuavano a metterlo alle strette, però è un documento che è una ricondizione delle cose da fare e tra l'altro la critica più grossa che io farò, che non parte può essere anche su alcuni punti condiviso però è che qui manca un cronogramma, nel senso, come sono due anni